La corsa di Miguel, un appuntamento che si rinnova ogni anno da 17 anni a Roma e che fa correre tutti, campioni e non, in ricordo di un giovane poeta e maratoneta che amava il suo paese e che un giorno è scomparso. In che modo quest'anno il Cone partecipa alla corsa di Miguel e come? Corsa di Miguel è diventata una tradizione della nostra città. C'è un grande messaggio dietro queste tre parole, corsa di Miguel, che ovviamente ricorda una persona molto lontana di un altro continente ma in realtà molto vicina per la sua storia ai valori che con gli amici della UISP portiamo sempre avanti e cioè chi onestamente ha subito delle ingiustizie, chi era uno sportivo e quindi anche simbolicamente questo per noi va sottolineato e va ricordato. Noi dobbiamo scrivere un breve testo di 4-5 righe, insomma un breve attacco riguardante il fatto di conoscersi attraverso la corsa di Miguel. Che cosa state facendo invece voi? Noi stiamo scrivendo un pezzo sulla corsa di Miguel sottolineando il fatto che la corsa sia aperta a tutti indistintamente dalla razza, dall'età, dal cuore della pelle e dal sesso. La corsa di Miguel è una corsa per tutti, la solidarietà che elimina la diversità. Correre per ricordare, questo è l'obiettivo dell'evento che mira a promuovere lo sport della tetica leggera coinvolgendo tutte le fasci di età, amatoriali e professionisti anche di rilevo internazionale riuniti per ricordare. Cos'è che ti ha colpito di più di questa storia ma soprattutto cos'è che cercherai di sottolineare di più? Che a me è piaciuto molto il fatto che Miguel andava in giro con la sua agenda che era come un mappamondo, ogni volta che correva faceva una trasferta in un'altra città per correre intervistava i suoi coetanei e in questa agenda erano riassunte tutte le caratteristiche belle dello sport o anche quando lui si innamorava e c'erano anche autografi di sportivi importanti e quello mi ha colpito molto. La corsa che fa correre tutti. Con questo slogan torna la corsa di Miguel che il prossimo 31 gennaio dà appuntamento a tutti, campioni, amatori e studenti. Parte così la 17esima edizione insieme con la sua versione non competitiva dell'astranti razzismo e con il suo chiaro messaggio ricordare il ragazzo poeta desaparecido Miguel Sanchez un ragazzo che amava l'atletica e l'argentina, il suo paese. Era la notte fra l'8 e il 9 gennaio del 1978 quando una banda paramilitare lo sequestrò nella sua casa a soli 25 anni. Da quella notte non si seppie più nulla. Grazie alla corsa di Miguel che non è solo una gara podistica, una tantum, ma è una quantità di iniziative particolarmente nelle scuole e sostanzialmente noi diciamo è la corsa che fa correre tutti, che vuole far correre tutti, campioni, amatori, ragazzini, bambini, atleti paralimpici, olimpici, tutti insieme per questo messaggio, cioè l'idea che lo sport sia una straordinaria occasione per conoscersi e conoscere il mondo. Una manifestazione ricca di eventi collaterali con la corsa madre che sosterrà le tante corse più piccole rivolte alle scuole in programma poi nei mesi di febbraio e marzo. Quelle scuole dove si sono già tenuti più di 100 seminari dal titolo L'Olimpiade spiega il mondo e dove ha esordito il progetto alternanza scuola-lavoro del WISP e della corsa di Miguel, con cui 350 studenti produrranno ogni giorno un quotidiano online dedicato alla bellezza del correre, alle associazioni di solidarietà presenti e al modo migliore per promuovere l'atletica fra i ragazzi. Tutto questo grazie alla legge 107 del 2015, secondo la quale i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nell'ultimo triennio di 400 ore, mentre nei licei di 200 ore inseriti obbligatoriamente nell'offerta formativa. Dieci gli istituti che hanno aderito al progetto, tra questi il liceo scientifico Talete di Roma. Sì, una grande novità e una novità anche rivoluzionaria possiamo dire perché in qualche modo porta i ragazzi a confrontarsi con la realtà, ad acquisire quelle competenze che saranno importantissime per il mondo del lavoro. È un momento diverso questo per la scuola, è un cambiamento, io direi epocale, forse una parola grossa, però è un cambiamento importante perché la realtà che è al di fuori della scuola entra a far parte della scuola e aiuta i ragazzi a rendersi conto di quello che imparano nelle varie discipline, è uno strumento fondamentale per relazionarli poi nella realtà che li circonda, sia che sia lavorativa che semplicemente di relazioni tra le persone, quindi li rende più sicuri, li consolida.